La pavimentazione per passare. Eccolo. E la casa. Quella è stata la forma originale di una cassa e quell'altra è una casa moderna. Per cucinare, però per cucinare, per non lasciare il fuoco e espandersi, si mette una base del radice di sottor Aspresso, che ha acqua, ma che non lasciare il bagnato, quindi non fa prendere fuoco. Ecco. Ora, i transporti. E' una balsa naturale. In cui noi, noi mobilizziamo da un posto per l'altro. Questo è il Mercedes Benz per voi. E questo è il Mercedes Benz per voi. E la tortora è anche la tortora secca, combustibile per fare fuoco. Sì. Allora, la isola è così, deve essere attaccata, vuol dire ancorata. Un sasso, se il luogo è profondo, o una pertiga, che si mette nel fondo quando non è proprio profondo. Questo va in profondità. Ecco. E già così si può abitare. E il papà ha iniziato alla festezza. La moglie è rimasto in isola e cucinare, intanto l'uomo ne va a pescare. Grazie. 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 Grazie.